Voglio collegare proprio questo, il coraggio con la fede, che hai detto poc'anzi, perché tu sei un grande, diciamo, promotore e amante proprio del presepe, no? Sì. E credo che nel tuo presepe proprio c'è il coraggio. Prima di tutto un coraggio e una fede che hai avuto proprio quando i tuoi occhi si sono posati su un particolare tronco, che era davvero difficile da spostare. Non so da quanti anni fosse lì nel bosco. 50 anni. 50 anni. E tu hai avuto la fede e il coraggio di trasportarlo, ecco si dice che la fede trasporta le montagne, ma la tua fede ha trasportato quest'albero e lo ha portato dinanzi alla chiesetta di Santa Maria delle Grazie e lì è diventato il protagonista di una bellissima scenografia, una nuova Bethlehem. Vediamo questo video quando tu hai proprio, ecco, messo, posato i tuoi occhi su questo tronco. E poi è una parte di radice di un albero senz'altro secolare. È qualche cosa di meraviglioso perché non è soltanto, ecco l'albero che noi vediamo così fiorente, pieno di foglie e di rami, così. È rimasto soltanto questa parte delle radici e il tronco che sta dietro a me. Però, ecco, credo che sia uno degli spettacoli belli che la natura ci può donare, no? e che ci fa ricordare di quante delicatezze, di quanta attenzione, di quanta particolare caratteristica ha ogni albero. Noi ci auguriamo di poterlo spostare un poco per ammirarlo ancora meglio. Stanno delle cose che sono tutte. Siamo queste cose. Ma che bello, che bello. La natura, anche quando è morta, è fonte di vita. Siamo queste cose. Ma che bello, che bello. Però, vedi, qua torno. Sì, sono proprio immagini prese dal vivo, si dice live, che fanno vedere proprio la tenerezza. Tu proprio hai accennato due cose. La tenerezza del Signore che si mostra anche in un tronco che, agli occhi di chi forse non ha fede, non ha questo amore anche per la natura, come tu ce l'hai, può sembrare un tronco ormai inutile, qualcosa che era destinato ad essere magari bruciato nei nostri cammini. Tu parli di tenerezza del Signore e poi parli anche di una vita che va oltre anche questo segno che può essere apparentemente di morte. Cioè, ma come ti è venuto in mente, ecco, il Papa parla proprio di creatività. Ecco, tu hai avuto questa creatività di vedere in quel tronco e di vedere la sua possibile, ecco, rinascita, possiamo dire. Sì, sì, sì. E tu pensi che noi andavamo girando con Saverio Di Cosmo, il cineoperatore, no? Andavamo girando per quei posti lì che è verso Carpino, insomma saranno una quarantina di chilometri di qua. E andavamo girando cercando i lupini, dei fiori, delle cose, perché stavamo celebrando il mese di maggio. Quindi ricordati che è un poco distante. E è proprio così. Andando vicino a un campo di lupini, ecco, i nostri occhi sono stati attirati da questo tronco, da queste radici. La prima impressione mia è stata che queste radici avevano la sagoma di una stella. E allora immediatamente, no, la stella, la stella cometa, la stella brilla, cioè la luce, così. E ho visto, dico, ah che meraviglia, perché è veramente qualche cosa di spettacolare. Al di là di, cioè, ecco, di quello che dicevo, no, che ci sono il verde, tutte queste cose. Proprio anche in queste radici, le cose particolari, no, che sono proprio delicate. Cioè non è una qualche cosa che si impone, ma proprio delicate. E questa è la presenza, secondo me, della bontà, della tenerezza di Dio. Se lui, ce lo dice Gesù, no, se lui ha cura anche di tutte queste piccole cose, quanto di più ha cura di noi. Quindi, ecco, colleghiamo anche la fede, anche con il coraggio. Se abbiamo questa presenza di Dio, penso che, anche se a volte uno soffre, no, si trova difficoltà, anche nella malattia, abbiamo fatto esperienza anche del Covid, tutte queste cose così, no. E poi l'altro aspetto, dicevo, ecco, che dalla natura morta può nascere sempre un po' di vita, no. Anche questo, no, se il chicco di grano caduto in terra non muore, non produce frutto. Perché accanto a questo albero, a questa, anche tante altre cose che ci sono nella natura, anche le pietre, sono delle cose magnifiche, no, che ci indicano la possibilità di vita, di rinnovamento, di tante cose belle. Cioè l'aspetto bello. Non dobbiamo, secondo me, ecco, secondo la nostra fede, non dobbiamo fermarci alla morte. È finito, è caduto a terra e non c'è più possibilità di cosa, eccetto poi bruciare. Invece, ecco, ci dà la gioia di ammirare. Infatti ho visto qualcuno lì vicino al presepe che era ingandato da questo enorme tronco, che è veramente secolare, dopo avrò avuto 400-500 anni, poi è caduto, è stato 50 anni lì. Intanto, ecco, io chiederei proprio alla regia di mandare le immagini proprio del tuo presepe, perché la collocazione del presepe è anche particolare, perché nella piazza ci sono, possiamo dire, due presepi, quello maestoso, la capanna, no, e questo albero anche maestoso, decorato a festa. Ma il tuo presepe ha una posizione davvero di umiltà, è nascosto, ed è davvero una scoperta, è davvero la scoperta di un tesoro. È all'ingresso proprio del giardino del nostro convento, accanto al pozzo. Ecco, possiamo vedere proprio queste immagini. C'è il pozzo proprio dinanzi alla chiesa del convento antico e questo è, ecco, il profilo laterale del tronco. Del tronco, sì. E nel cuore delle sue radici è posta proprio la capanna. Anche questo è significativo, no? Gesù nel cuore di queste radici, no? Esatto, sì, sì. La vita che sconfigge la morte. La vita nuova, la vita vera, perché, cioè, questo, ecco, c'è tutta la realtà umana, no? Di una vita, quest'albero chissà quanta frutta ha dato, perché è un noce, e poi, insomma, alla fine, insomma, si è dovuto arrendere probabilmente a qualche indemperia. E però, ecco, c'è qualche possibilità, diciamo, di avere questa, dare l'ospitalità alla vita nuova che è il Signore, che è il Signore, no? Ecco, il Papa oggi proprio ha parlato, no, dei migranti. Ed è un tema che lui tocca sempre, quasi sempre, perché ci invita proprio a dare accoglienza. Allora, penso che proprio possiamo prendere una lezione dal presepe, no? Anche, diciamo, ecco, il fatto che sta vicino al pozzo, quel pozzo che, senz'altro, ha visto anche Padre Pio vicino, perché era a fianco alla cucina, lì, insomma, ecco, il piazzale antico, dove lui si affacciava e viveva questi rapporti umani, no? E poi, ecco, l'aspetto dell'acqua che scorre, no? E' un altro elemento forte proprio, infatti c'è questa scritta qui, attingerete acqua con gioia, le sorgenti della salvezza, da Isaia. Esatto, sì, a fianco a quest'altro tronco che è una radice di ulivo, anche questo è magnifico, e poi anche nel presepe ci sta, secondo me, è indispensabile mettere l'acqua. L'acqua. No, che è la fonte della vita, no? Non soltanto della vita fisica, della vita umana, ma anche della vita spirituale. Noi rinasciamo grazie al battesimo che è fatto con l'acqua. E quella frase, attingerete con gioia, le sorgenti della salvezza, appunto questa possibilità che tutti quanti abbiamo. L'acqua, penso, ecco, Gesù ci dice, non un bicchiere di acqua donato, avrà la sua ricompensa. Nessuno, credo, nega un bicchiere di acqua. Quindi il pozzo che è custode dell'acqua e poi, ecco, l'acqua spirituale che Padre Pio ha anche tanta grazia che ha donato, tanta vita nuova.